Il Comitato di Quartiere Santa Croce anche quest'anno dà lustro alla città con le sue brillanti iniziative frutto del volontariato e dell'amore e attaccamento alla propria città e al proprio quartiere. Antichi Sapore e Tradizione Nessena è il titolo dell'iniziativa che durerà tutto il mese di dicembre e gennaio con appuntamenti settimanali importanti che raduneranno nella piazzetta Tripisciano tante persone che gareggeranno nello stimarsi a Vicente e gusteranno i prodotti tipici della città parlando e confrontando le proprie convinzioni sul bene della città e le sue potenzialità. Sabato 30 novembre si è realizzata con grande successo la degustazione delle arancine al ragù alla presenza di un volto pubblico e delle autorità cittadine presenti. Adesso si lavora per la degustazione del cannolo nisseno per domenica 8 dicembre alle ore 18 sempre nella piazzetta Tripisciano dove si attendono una marea di persone nel corso dell'evento si darà inizio alla novena natalizia con la presenza di don Alessandro Giambra che terrà una manifestazione di tipo religioso alle ore 17 e 30. Di seguito venerdì e sabato 13 e 14 dicembre evento con degustazione del famoso torrone nisseno alle ore 18 sempre con la novena religiosa nel presepe allestito magistralmente nella piazzetta Tripisciano. Anche in quell'occasione nel clima festivo natalizio si attendono migliaia di persone a festeggiare nel quartiere con le tradizioni e i sapori nissene. Dal 16 al 24 dicembre la novena sarà dedicata alle scuole alle quali si trasmetteranno le tradizioni natalizie del quartiere e sarà festa e sarà gioia dello stare insieme con le nuove generazioni avvicinandosi al Natale del Signore che viene incontro alle sue creature amate. Il comitato di quartiere è unito e combatto nel fare bene a tutte e dare lustro alla piazzetta e al quartiere tutto quindi ogni giorno nel chiosco allora assegnato nella piazzetta Tripisciano ci sono incontri, riunioni e fraternizzazioni organizzando quello che il programma ha già indicato e anche oltre perché si accettano nuove idee fattibili e semplici l'importante è che tutto concorra al bene del quartiere e della città conseguentemente. Intervisteremo a giorni personalmente i protagonisti per conoscere da loro stessi quello che sta accadendo nel quartiere Santa Croce nel Natale di quest'anno. Grazie a tutti.